Allora, non ho avuto il coraggio, diciamocelo già, non ho avuto il coraggio di pubblicare un video, un mini video che dura 59 secondi dove provavo un nuovo filtro audio, riduzione del rumore di OPS Studio. Non ho avuto il coraggio di pubblicare quel video perché è stato più un testo che un video comunque viene in descrizione del video, che non in elenco. Grazie.